Oggi ci troviamo a Corte Emilia, insieme ai nostri amici motociclisti, in occasione del secondo motoraduno della nocciola. Abbiamo tutti gli ingredienti necessari per una buona riuscita di questo motoraduno. Abbiamo il tempo che finalmente ci ha concesso una tregua e ci ha regalato una splendida domenica di sole. E poi abbiamo tantissime moto. Del resto non era possibile pensare di potersi perdere un motoraduno nella meravigliosa collina delle Langhe. L'idea è nata da una mia grande passione per le moto. Ho proposto questa cosa al comune alla Proloco di Corte Emilia, che l'hanno subito accolta. Quindi abbiamo le condizioni ottimali per farci un bel giro in moto in compagnia. Quasi 50 km, si sale su Acerrole, si scende poi da Rocaverano, si scende a Monastero Bormida e si ritorna poi quindi qua a Corte Emilia. Grazie a tutti. Un grande saluto da Corte Emilia.